Si è stabilizzata la curva epidemiologica nelle Marche, i ricoveri sono in calo e l'indice RT rimane sotto l'uno. La cabina di regia ha deciso di lasciare in fascia gialla la nostra regione anche per la prossima settimana, mantenendo quindi le norme anti-covid meno restrittive. Tre comuni però rimarranno in zona arancione rafforzato fino al 4 maggio compreso, Valefoglia, Montelabate e Cerretodesi. Preoccupano i contagi anche ad Acqualagna, uscita domenica scorsa dalla microzona rossa. Il sindaco Luca Lisi ha prorogato fino all'11 maggio la sospensione dell'attività scolastica in presenza. La settimana che va dal 19 al 25 aprile, ha spiegato il primo cittadino, Acqualagna è rientrata nei parametri e ciò ha comportato l'inserimento nella zona gialla. Tuttavia nel frattempo sono state messe in quarantena sei classi e per quattro di esse la quarantena è stata attivata sabato scorso. È accaduto poi che alcune docenti, avendo fatto sostituzioni in quelle classi, sono state a loro volta messe in quarantena. Questo ha comportato la difficoltà a garantire l'attività didattica in presenza. Non sono state chiuse le scuole, ha precisato il sindaco, ma è stata attivata la DAD e intanto si procede con la sanificazione degli ambienti. La proroga della sospensione è dovuta anche al fatto che i tamponi molecolari, cui dovranno essere sottoposti sia gli alunni che i docenti, sono previsti nelle date del 29 aprile, 4 e 7 maggio. L'esito potrebbe arrivare anche qualche giorno dopo e quindi ad oggi la scuola non è in grado di conoscere con certezza se avrà la presenza fisica degli insegnanti per garantire le lezioni in presenza. Il provvedimento preso, condiviso con ASUR e dirigenza scolastica, è quindi un intervento necessario, ha concluso l'ISI, sia per motivi di gestione organizzativa, sia per evitare ulteriormente la diffusione del Covid. E il virus preoccupa anche il sindaco di Fossombrone, Gabriele Bonci, che ha aggiornato i cittadini tramite la pagina Facebook. Purtroppo i numeri continuano ad aumentare rapidamente, ha scritto in un post, e il timore che la regione possa adottare misure restrittive a livello locale diventa sempre più concreto. Ad oggi le persone in quarantena sono 114, 10 in più in 24 ore, mentre i positivi sono 60, ieri erano 44. Il sindaco poi ha lanciato un appello ai cittadini chiedendo di rispettare le regole e di usare la testa, perché c'è in ballo la salute. I controlli ci sono, assicurato Bonci, e di recente un locale è stato sanzionato e costretto a chiudere per cinque giorni per aver violato l'enorme anticontagio. Abbiamo davanti due giornate di festa, ha concluso il sindaco, dove anche il meteo potrebbe essere finalmente clemente. approfittiamone per svagarci, ma facciamolo in modo responsabile.